Abbiamo letto il romanzo di Pirandello Il Fumati a Pascal per la Emons Audiolibri e insieme a me hanno letto Cecilia D'Amico e Giovanni Maria Briganti che interpretavano alcuni personaggi del romanzo. Sei un grande critico di lingua tedesca, George Steiner, dice che bisogna leggere ad alta voce. Oltretutto in Pirandello le battute sono molto interessanti, importanti e spiritose quindi è necessario che ci sia quasi un'esigenza, che ci sia un'altra che le dica perché sono dei dialoghi. Abbiamo scelto Il Fumati a Pascal proprio perché è il titolo che racchiude tutti i temi presenti nell'opera pirandelliana. È un romanzo raccontato in prima persona da Mattia Pascal che fa il racconto della sua vita e raccontando la sua vita ci sono molti momenti di riflessioni, di monologhi interiori che sono proprio strutturati in maniera dialogica per cui nel romanzo io ho interpretato la coscienza anche di Mattia Pascal e quindi era proprio emblematico di tutta la poetica pirandelliana. Recitare in effetti è leggere un personaggio standone fuori e riproponendolo al pubblico. Mi è ritornato questa ammirazione per Pirandello scrittore perché certe volte proprio uno rimane sorpreso da come cambiano le cose, dalle invenzioni che lui crea ed è un grande romanzo. Abbiamo proposto appunto a Demons Cecilia e Dio di fare questo audiolibro insieme al maestro Paolo Bonacelli perché quest'anno ricadono i 150 anni dalla nascita di Luigi Pirandello.